... Secondo me c'è una cospirazione Voglio dire la banca mondiale di proprietà di dodici bastardi che vogliono governare le nostre vite E questi ci mandano in recessione proprio quando sto per comprarmi la casa E' come in quel film con Michael Douglas Quello con i dodici giudici che amministrano la giustizia come gli pare Qual era il titolo? Star Chamber Sì, è quello Praticamente la banca mondiale è come quel cazzo di film E' questo? Che succede? E' solo un coglione che mi fa gli abbaglianti Dai su, passa stronzo Adesso ha rallentato E deciditi, imbecille Calma e non rallentare Aspetta le luci Bene, procedura d'emergenza Non fermarti, potrebbe essere un tentativo di fuga Che cazzo sta facendo? Chiamala a centrale Eselton Eselton Qui trasporto detenuti Eselton Eselton Qui trasporto detenuti dal penitenziario di Grampton Rispondete, passo Rispondete Rispondete Sì, sì, sì. Grazie a tutti.